Il sistema della raccolta differenziata porta a porta della frazione organica consente di minimizzare lo smaltimento del rifiuto organico in discarica e di ridurre la presenza di materiale putrescibile nella frazione residuale, il cosiddetto secco. Questo consente una drastica riduzione anche delle frequenze di raccolta della frazione residuale e rende il sistema economicamente più sostenibile. L'utilizzo di sacchi compostabili in bioplastica, grazie alla loro origine rinnovabile e alla biodegradabilità e compostabilità, si dimostra uno strumento fondamentale per intercettare il rifiuto organico e ridurre la contaminazione di questo rifiuto garantendo anche una qualità maggiore del compost finale. Volendo citare un caso studio possiamo parlare della città di Milano, quindi una città di più di un milione di abitanti che ogni anno raccoglie più di 140 mila tonnellate di scarti da cucina con una qualità eccelsa. Milano è una città che rappresenta un sistema ormai diffuso in tutta Italia e che primeggia in Europa e nel mondo.